Va ora in onda Radio Speranza Notizie a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara. Ben trovati a questa edizione del nostro radiogiornale che apriamo con una notizia che arriva sul versante economico. Dal 2014 al 2018 l'Abruzzo ha perso 2.366 imprese passando dalle 129.488 del 31 dicembre 2013 alle 127.122 del 31 dicembre 2018. Nello stesso periodo in termini percentuali l'Abruzzo ha visto calare dell'1,83% i valori pari al triplo della decrescita media a livello nazionale, meno 0,68%. E' quanto emerge da uno studio indipendente di Aldo Ronci sui dati di nuove imprese. L'unica a segnalare un incremento è la provincia di Pescara con una crescita del numero di imprese pari a 636 unità. A subire la flessione più pesante è invece quella di Chieti con meno 1.416 e registrano una diminuzione più lieve. L'Aquila meno 744 e Teramo meno 842. A livello provinciale le attività economiche si distribuiscono in maniera disomogenea. L'agricoltura è calata vertiginosamente a Chieti, meno di 919 le imprese in termini di numeri. Le costruzioni decrescono più intensamente a Teramo dove sono scese di 600 unità e all'Aquila dove sono invece scese di 580 unità. Per quanto riguarda le attività ricettive il segno è positivo, più 196. Lo stesso vale per i servizi e le imprese, più 240. crescono più fortemente a Pescara dove appunto questi sono i numeri. Sempre a Pescara gli altri servizi, più 613, salgono vertiginosamente. Il commercio cresce in provincia di Pescara, più 111, mentre si abbassa nelle altre tre province. Per la settimana dei musei, introdotta dalla nuova campagna del Ministero per i beni architettonici, artistici e culturali, con gratuità in tutti i siti statali nei sei giorni consecutivi dal 5 al 10 marzo, il riscontro è stato più che dispacente nei nostri principali musei. Lo dichiara Lucia Arbace, direttrice del Polo Museale dell'Abruzzo. Questi i dati sui visitatori. L'Aquila, per quanto riguarda il Munda, ha fatto registrare, cioè il Museo Nazionale d'Abruzzo, ha fatto registrare 867 presenze. A Chieti, al Museo Archeologico Nazionale d'Abruzzo, Villa Frigeri, 698 presenze. Sempre a Chieti, al Museo Archeologico d'Abruzzo, la Civitella, le presenze sono state 603. A Pescara, al Museo Casa d'Annunzio, 1016 a Celano, al Museo d'Arte Sacra della Marsica, 701. Qui vanno aggiunte anche le presenze degli altri siti di Sulmona, Campri, Popoli e Castiglione a Casauria. Va ricordato che oggi, il compleanno di Gabriele D'Annunzio, l'entrata al Museo Casa di D'Annunzio di Pescara sarà gratuita, mentre giovedì, per la Giornata Nazionale del Paesaggio, ingresso libero in tutti i musei nazionali. Autostrade per l'Italia comunica che sull'A14, per programmati lavori di ordinaria manutenzione previsti in orario notturno, dalle 22 di mercoledì 13 alle 6 di giovedì 14, sarà chiuso il tratto compreso tra Ortona e Val di Sangro, in provincia di Chieti, in entrambe le direzioni, verso Bari e quindi verso Pescara-Bologna. Di conseguenza, la stazione di Lanciano sarà chiusa nell'uscita e entrata da e verso entrambe le direzioni o provenienze. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari. Verso Bari, dopo l'uscita obbligatoria a Ortona, si potrà proseguire sulla statale 16, Adriatica, in direzione sud, e seguire le indicazioni per l'A14 Foggia con rientro sulla 14 alla stazione autostradale Val di Sangro per proseguire in direzione Bari. Verso Pescara-Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Val di Sangro, si potrà proseguire sulla statale 16, Adriatica, e seguire le indicazioni per l'A14 Pescara con rientro sulla stessa A14 alla stazione autostradale di Ortona per proseguire in direzione Pescara-Bologna. Le località costiere di Fossacese e Vasto hanno partecipato al workshop per la firma del documento finale del progetto Le vie della transumanza, patrimonio della cultura e dell'umanità per la candidatura UNESCO al patrimonio culturale e immateriale dell'umanità. È un piano che trova Fossacese in perfetta sintonia con i piani di sviluppo turistico portati avanti da tempo, dice il sindaco Enrico Di Giuseppe Antonio. L'idea di far parte di percorsi che dal nord Europa scendono verso il sud della penisola, aggiunge, ci entusiasma perché darà occasione di apprezzare le nostre aree interne, luoghi religiosi di grande interesse e prodotti enogastronomici. L'incontro era organizzato da Asvir Moligal, capofila tavolo tecnico internazionale, in collaborazione con comuni e distretti urbani di San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis, patrocinato dal Consiglio d'Europa, dalla Regione Puglia, da Puglia Promozione, dalla Regione Molise, dalla Fondazione Popoli e Territorio, dal Parco del Gargano, dai Borghi della Salute e dai Borghi del Cellenza. Pescara diventa laboratorio per il riuso della plastica, grazie ad un progetto di formazione e informazione condiviso dall'amministrazione edattiva SPA con il liceo Lavinci, che porterà la tecnologia innovativa a servizio di una sinergia da coltivare per il bene della comunità. Si tratta di Ecotech Lab, un percorso didattico di economia circolare e tecnologie di manifattura additiva per il liceo scientifico Leonardo da Vinci di Pescara, che inizia oggi. Ieri la presentazione delle tappe con l'assessore a Ligione Urbana Paola Marcheggiani, il direttore tecnico ed attiva del Bianco, e il professor Puzzello, ideatore del progetto e sviluppatore della tecnologia di riferimento, nonché la consigliera di Giampietro, che ha proposto la sinergia, il consigliere Frattarelli. Gli allievi matureranno competenze di base in merito alla programmazione CAD, cioè progettazione 3D, e all'uso di strampanti 3D, spiega Puzzello. Dalla progettazione alla realizzazione, con l'uso di materiali derivanti da residui, di processi produttivi, e non solo, le tecnologie sono pronte, non resta che agire. Ho maturato una lunga esperienza di costruzione e utilizzo delle stampanti in 3D, grazie ad essa, per il prossimo appuntamento importante per l'industria e per i professionisti abruzzesi e italiani, sarà con 33D 4G Road ai laboratori nazionali del Gran Sasso, il 22 maggio 2019, in occasione del primo corso in tecniche di programmazione e produzione additiva, che si svolgerà all'interno dei laboratori di Assergi. Sopra il luogo tecnico dell'assessore alle periferie del comune di Pescara, Giacomo Cuzzi, e di quelli ai lavori pubblici, Tonino Natanelli, ieri a Fontanelle, dove lunedì prossimo partirà il cantiere per la riqualificazione del quartiere, all'interno del progetto di riqualificazione delle aree periferiche della città, in tutto 18 milioni di interventi. Si parte da Fontanelle, che aspetta da decenni di concretizzare l'attenzione che questa popolosa zona della città merita, dice l'assessore alle periferie Cuzzi. Grazie a sia i 18 milioni di finanziamenti pubblici dei progetti, sia la quota privata prevista dal bando, e capace di portare il monte degli investimenti a oltre 58 milioni in tutto, si comincia con la realizzazione di una piazza dietro via caduti per servizio, con nuovi parcheggi, una ciclabile, illuminazione, videosorveglianza e un campo da calcetti alloggi e ater per diversamente abili. Esattamente come previsto è arrivato sul nostro Bruzzo l'atteso peggioramento del tempo con uno straordinario rinforzo dei venti del nord, e se il repentino abbassamento delle temperature dovrebbe toccare oggi il suo punto minimo e tra oggi e domani è per durare per 24 ore circa, sui social è corsa allo scatto più spettacolare. A Pescara in particolare sono stati molti, con il naso rivolto verso il cielo, per immortalare una nube sulla città. Definite shelf cloud, ovvero nubi a mensola, queste nuvole sono tipiche di un temporale, spiega Giovanni De Palma, nelle cui previsioni c'è un ulteriore peggioramento, con venti di rinforzo, rovesci possibili temporali e neve a quote relativamente basse. Maria Ida D'Antonio succede a Tonino Natarelli alla presidenza della Commissione Consigliare Politiche Sociali del Comune di Pescara. la Presidente della Commissione Consigliare, dunque va a lei, continuerò con impegno il lavoro del consigliere Natarelli, ha detto nei mesi di consigliatura che restano portano avanti il lavoro iniziato, rivolgendo attenzione iniziativa e soprattutto su temi che mi sono da sempre cari, dalla disabilità al sostegno alla famiglia. E veniamo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e Provincia si prevedono sulla costa cielo nuvoloso fino a tutto il pomeriggio e sereno in serata, con temperature da 5 a 10 gradi e venti moderati, mentre nelle zone interne si prevedono cielo coperto fino alle ore centrali, nuvoloso nel primo pomeriggio, di nuovo coperto nel resto del pomeriggio e sereno in serata, con temperature da 5 a 8 gradi e venti, da deboli a moderati. Il mare è previsto oggi da mosso a molto mosso. Ed è tutto per la nostra informazione. Da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Grazie e a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.